ciao ragazzi no guardate dove vi porto oggi nell'acqua c'è un po buio qua mamma mia quanto sarà bella la grafagnana vediamo se mi riesce di fare un po di pesca col magnete ragazzi trovo un punto adatto si prova anche se penso che qui non ci sia la mazza magari qui ci provo grazie a tutti 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 grazie a tutti